Sei la Bedrockers? Come va? La Bedrock Edition finalmente torna ad aggiornarsi con delle novità che definirei consistenti. Il nuovo update in preview non solo ci rimette al passo della Java Edition per quanto riguarda il nuovo bioma, The Pale Garden, ed il nuovo mob, il Creaking, ma introduce anche delle nuove funzioni, al momento esclusive ed inedite, della Bedrock Edition, oltre ad apportare ulteriori novità alle shaders, che ormai stanno raggiungendo livelli mai visti prima. Partiamo intanto proprio dalle due novità principali. Eviterò di farne una panoramica generale, essendo che sono identici a quelli presenti su Java, che abbiamo ormai in visto e rivisto. Eh sì, la Mojang ultimamente se la sta prendendo di nuovo con calma per aggiornare la nostra amata versione del gioco, mettendo non pochi bastoni tra le ruote, a noi già non troppissimi Creators Bedrock. Ho pensato quindi di fare un qualcosa di diverso, andando già ora a dirvi cosa ne penso io, guardandoci insieme ogni singola aggiunta. Questi di fronte a noi sono tutti blocchi nuovi introdotti, inclusi quelli relativi al Creaking. Eh ragazzi, lo so che a diversi di voi non fanno impazzire, ma a me sinceramente piacciono e non possono poco. Un legno bianco come questo a mio parere fa la sua figura, e si potrà inserire molte costruzioni per creare dei contrasti netti. Comprendo però i gusti, e va bene così, ma un'aggiunta così corposa non si vedeva da tempo. E considerando che la 1.21 è uscita appena qualche mese fa, oh, io, al momento dico bella per la Mojang. Certo avere preferito che fossero andati a metterlo nel land, aggiungendo così un biome in una delle terre, che al momento è tra le più spoglie ripetitive, dandoci anche un motivo in più per tornarci dopo aver sconfitto il drago e prese l'elytra. Sarebbe stato uno sforzo simile per la Mojang, ma con una resa molto migliore per noi players. Ok, non sarebbe stato l'agoniato end update, ma qualcosa di gradito. Comunque, passiamo ora ad una novità clamorosa e soprattutto inaspettata. Da adesso in poi, quando giocheremo con la difficoltà impostata su facile o pacifica, avremo di base il mantiene inventario. Ebbene sì, anche in sopravvivenza e senza perdere gli obiettivi. È una feature tanto richiesta quanto controversa, perché chiaramente renderà il gioco davvero molto più semplice. Però, sapete che vi dico, secondo me ci hanno visto giusto. Bisogna trovare modi per portare gente nuova sul gioco, e questa scelta lo renderà molto meno frustrante per tutti i neofiti che si avvicinano al gioco per la prima volta. L'unica cosa, mi aspetto che per quando questa novità arriverà in versione definitiva, avremo un'impostazione per attivare e disattivare il Keep Inventory alle difficoltà più basse. Potrebbe essere una cosa non gradita, probabilmente non tanto da chi gioca in pacifica, ma tanti giocano in facile, volendo mantenere però intatta l'esperienza standard. Ed in questo senso, non perdere gli oggetti ogni volta che si viene sconfitti, la cambia eccome. Ora, prima di passare alle shaders, facciamo un rapido recap di altre modifiche minori, arrivate con questo aggiornamento. Inizio con il dire che sono proprio tante. È uno degli aggiornamenti recenti più ricchi, e quindi vi invito a dare un'occhiata all'articolo completo sul sito ufficiale. Tra queste novità minori degne di nota, c'è sicuramente la risoluzione di un bug di visualizzazione dei bundle. Adesso il nome degli oggetti verrà correttamente visualizzato all'interno del bundle stesso, migliorando nettamente la legibilità. Un altro bug risolto è quello della respirazione. Ora, usando l'incantamento respirazione, non solo perderemo fiato più lentamente, ma lo stesso avverrà con i danni subiti, allungando nettamente il tempo che potremo trascorrere sott'acqua. Una modifica importante è stata portata anche al punto di spawn. Adesso, quando creeremo un nuovo mondo, il gioco farà in modo di non farci nascere in un posto eccessivamente brutto, rendendo l'early game più avvincente ed in teoria anche un po' più semplice. Anche il Wither è stato modificato, ed ora in avanti non si muoverà più durante la fase di spawn. Appena ho letto questa cosa, mi sono subito preoccupato per il funzionamento della nostra farm di Wither Boss, ma come vedete, fortunatamente funziona ancora. Grazie al cielo, potremo continuare a farmarli senza rischi. Alcune modifiche sono state portate ai tempi di distruzione di alcuni oggetti, utilizzando vari utensili, come per esempio il Bamboo. Ed insomma Bad Rockers tante altre piccole cosine molto tecniche con cui non voglio annoiarvi. Sono modifiche davvero di poco conto, che non impatteranno sul gameplay se non in maniera marginale, e probabilmente neppure le noteremo in una normale partita. Dai, torniamo alle portate principali. Passiamo ora ad uno dei pezzi forti, andando a vedere come si comportano le shaders aggiornate. Le modifiche a portate, oltre a sistemare dei dettagli specifici, sono andati soprattutto a migliorare la qualità generale dei riflessi ed hanno diminuito, grazie Mojang, quella sorta di alone nero intorno allo schermo che si attiva quando ci si trova sottoterra. A mio parere una cosa fastidiosissima anche quando si gioca con la grafica standard, ma con le shaders era pure peggio. Come vedete, inoltre, adesso gli oggetti riflettono e si illuminano anche quando li teniamo in mano o si trovano a fluttuare per aria, cosa che prima non accadeva. Dettagli su dettagli, il livello generale delle shaders è ormai decisamente ottimo, e mi aspetto che la release ufficiale sulla versione definitiva di Minecraft Bedrock non tarderà ad arrivare. Entro la fine del 2024 secondo me ci renderanno felici. E su questo voglio lanciarvi una provocazione. Ma non è che ultimamente la Mojang ha rallentato apparentemente lo sviluppo su Bedrock proprio per queste funzioni? Tendiamo a dimenticare che a brevissimo arriveranno l'hardcore e le shaders. Cose che su Java sono lì da tempo e quindi non hanno occupato il team interno che si dedica a quella versione del gioco. Io credo che questa sia un'ipotesi piuttosto realistica, ma ditemi la vostra a riguardo. Questo ritmo di aggiornamenti a voi va bene? O pensate che potrebbero fare qualcosina in più? Va bene, Bedrockers, direi che abbiamo visto un po' tutto. Se questo video vi è piaciuto, prendete in considerazione l'idea di supportarci qui su YouTube. E noi ci vediamo presto. Alla prossima, ragazzi. E dal solito, stay safe, stay Bedrockers.